Dopo due anni e un lungo lavoro in Commissione Sanità, finalmente si porta a casa il testo unico sulla cultura. Un lungo lavoro di ascolto, un lungo lavoro all'interno delle commissioni, tanti mesi, tanti mesi soprattutto persi dietro a una battaglia tutta interna tra Consiglio regionale e Giunta regionale. Una corsa a chi doveva rivendicare il testo unico sulla cultura, in realtà non serviva questo, bastava ascoltare le opposizioni che chiedevano fin dall'inizio di unificare i due testi, portarli a casa dopo aver ascoltato tutti i portatori di interesse che hanno dato grandissimi suggerimenti. Abbiamo bloccato la norma con circa mille emendamenti per far capire che andava tutto recepito all'interno di quella norma e i vari suggerimenti di tanti portatori di interessi nei vari settori. Questo è un testo che rivede tutta la cultura di questa regione. Davvero si affaccia su tutti gli aspetti di questo territorio. Noi siamo stati in grado di modificarla con i nostri emendamenti, portare a casa tantissimi risultati, ma ciò che più conta oggi è vedere ancora una volta, rivendicare il merito di una norma, ma andare poi a fondo e scoprire che ancora una volta non ci sono i fondi. Un testo unico che senza fondi non avrà nessun effetto sul territorio. Pensiamo solo alla Film Commission. Tutti litigano di chi è il merito per averlo inserito su questa norma, una norma che già la regione aveva, ma in realtà più di 150 mila euro nessuno ce li ha messi. Sappiamo bene che il costo di un film aggira sui 400-500 mila euro. Senza quei fondi nessuno verrà a girare in Abruzzo. Solo uno dei tanti aspetti. Pensiamo anche alla Street Art, la nostra norma. La inseriamo nel testo unico della cultura, ne rivendichiamo i grandi meriti. Approvata l'unanimità, tutti a dire che finalmente la regione Abruzzo riconosce la Street Art come forma d'arte e cultura di questa regione, ma non ci mettiamo nemmeno un euro sopra per poter dire agli artisti di questa regione venite da noi e abbellite la nostra regione con le vostre opere d'arte. C'è il rischio ancora una volta di vedere l'ennesima legge bandiera di questa maggioranza che ultimamente fa solo quella. In piena campagna elettorale, evidentemente questo è l'unico interesse che portano a casa e non certo quello dei cittadini e del bene dei cittadini. Siamo certi che si potesse fare molto di più. Il risultato ci soddisfa perché per la gran parte ha ricevuto tutte le nostre istanze, ma certo poteva essere fatta molto meglio e sicuramente molto prima. Tanti mesi persi inutilmente per guerre interne e i cittadini potevano farne sicuramente a meno.